La risposta della Commissione è che il quesito è inammissibile perché non è di competenza esclusiva del Comune, che non può decidere in maniera autonoma dove localizzare un digestore, per cui giustamente non ci fanno fare neanche referendum. Però a questo punto noi ci chiediamo perché il Sindaco continua a portare emozioni, a dire che lo farà, a spendere soldi con Aset per ipotizzare e valutare questo impianto, quanto non c'è nulla in questo momento e non può comunque deciderlo lui. Ancora di più, perché poi la relazione, e vogliamo ringraziare la Commissione perché è stato veramente un grandissimo lavoro che hanno fatto, molto preciso, accurato, scegliendo un tecnico della regione che è anche relazionato dal punto di vista tecnico e giuridico sugli aspetti. Da questa relazione io credo che emergano le ragioni per cui non si può fare a bell'occhio e falcinito. in maniera chiara, quindi ne deve prendere atto il Sindaco di Fano. Primo perché la provincia nel 2018 ha approvato una delibera dove non si possono realizzare impianti di questo tipo e la zona di bell'occhio e falcinito ha tre vincoli di tutela, idrico, ambientale e naturalistico e anche di tipo culturale e paesagistico. Quindi tre vincoli ha. Mi chiedo io come si possa solo ipotizzare di indicare quei siti lì, quindi già due siti non ci sono. Secondo, l'unico documento che è citato anche nella relazione, che in questo momento è valido, è la relazione preliminare provinciale dell'Ata. In quella relazione c'è un unico sito che è indicato, che è quello di Montesquiantello, con un impianto piccolo da 15.000 tonnellate, all'interno di fianco alle discariche. Questa è l'unica cosa che ha votato il comune di Fano, peraltro, quindi il sindaco l'ha votato, quel documento lì, e questo è l'unica cosa che si può fare veramente su questo territorio. Dovrebbero cambiare tutto il piano preliminare provinciale, dovrebbero farlo approvare alla regione, non c'è nessuna approvazione dalla parte della regione, per cui mi chiedo perché continuate a spendere i soldi dei cittadini, inutilmente, e mi chiedo a questo punto se il sindaco voglia fare una dichiarazione ufficiale e dire cosa ne pensa di questa relazione che gli è stata inviata dai tecnici, e oltretutto, questo ovviamente lo chiedo io, se non voglio invece iniziare un percorso vero, di coinvolgimento, di partecipazione, spiegando ai cittadini come vuole gestire i rifiuti provinciali con tutto il resto dei comuni della provincia.